Simeone, allora Recoba, Tarantino e Berti al posto di Gans, Mezzano e... Tarantino sull'auto sinistra al posto di Mezzano Recoba Recoba Cristiani recupera il pallone, Recoba si propone Ronaldo, tira Recoba, traversa gran tiro del giovane talento dell'Inter eccolo qui Recoba, rivediamo vedete Ronaldo, più defilato gran tiro di sinistro, pallone che colpisce la traversa dimostra di avere delle grandi doti questo giovane tanto se poi Calabrese avrà qualche ospite al microfono ovviamente ce lo segnalerà Zelias Ronaldo poi con la Roma, poi con l'Atletico Madrid per l'Inter per assaggiare le condizioni, attenzione Zanetti, Recoba apertura molto bella per Zeli a bordo campo vediamo questa azione, Zanetti tiro di Zanetti prova ad andare via, ottima la conclusione del brasiliano che ha servito Recoba altruista, appoggio per Recoba però viene anticipato tocco per Berti apertura per Recoba è ancora in corso questa partita parte di Simoni Recoba prova a servire Ronaldo o sta Savolghi Sartor roccioso vero in forma l'argentino Recoba a girare schiaffi si era catapultato in avanti ancora Recoba lancia il pallone entra in area sbaglia però la conclusione vediamo il suo aggancio molto bello entra in area il suo conclusione completamente Simoni tanto la progressione di Ronaldo bene Recoba la sua incursione attenzione a Recoba fa tutto Recoba bravo il giocatore va via sembra l'ultimo tocco di Parvini non è di questo avviso rivediamo incursione di Recoba poi toccano il pallone insieme Recoba sono sporadiche davvero le incursioni dei difensori dell'Inter è un altro che però un guizzo al quinto minuto del primo tempo è stato in vantaggio ne batte Zelias per Recoba positivo Recoba si muove Ronaldo fa spazio a Recoba che punta da solo la porta mette in mezzo il suo tiro un'Inter più solida più attenta nel secondo tempo soprattutto in fase difensiva come abbiamo spesso ripetuto un primo tempo in cui il Pisa ha costruito raddoppio al 44esimo con Mezzano Recoba Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti